È arrivato il momento di entrare nel vivo della serata, prima però di partire con le premiazioni e quindi qui io ora mi defilerò. Chiamo sul palco i rappresentanti di 5 importanti realtà che partecipano al nostro evento per discutere di alcuni temi caldi del presente. Per l'occasione abbiamo dato un titolo speciale al nostro format che come sempre speriamo possa esservi di ispirazione. Sustainable growth, fra capitale di rischio, finanza green e insurance innovativa. Sono le stesse tematiche che ogni giorno noi affrontiamo su un altro nostro sito di punta che è New Insurance. Vedete appunto alle mie spalle anche in questo caso alcuni estratti del sito. Vi invito anzi a informarvi direttamente, a spulciarlo direttamente dal vostro telefono. E a questo punto do il benvenuto sul palco all'avvocato Gianluigi Serafini, partner di Grimaldi Allianz. Accogliamolo con un applauso, grazie. Assolutamente. Chiamo anche Giuseppe Corcione, founder and CEO di Renova. Buonasera. Mi avvicino a te così li facciamo accomodare. Prosseguo con Sonia De Canale, owner di Claim Expert. Buonasera. Buonasera. Proseguiamo con Roberto Montaruli, consigliere delegato and senior advisor di Professional Partners. Buonasera. Benvenuta. E concludiamo con Maurizio Fiaschè, founder and CEO di F Engineering Consulting. Buonasera. Perfetto. Buonasera. Bentrovati ancora. Io naturalmente vi chiedo un po' di attenzione. Questo è uno spazio che volutamente durante i nostri awards dedichiamo a singoli temi, che però, lo dicevamo anche poco fa, speriamo che possano essere di ispirazione. Cosa si intende per ispirazione? Che possano in qualche modo far comprendere alcune ricette imprenditoriali e non solo. Anche di mentalità, perché poi peraltro l'argomento che affrontiamo questa sera ha molto a che fare con la cultura e la mentalità e che poi possano, come dire, essere anche da esempio. Ciascuno di voi sicuramente può portare un esempio ogni giorno. Questa sera loro sono i nostri protagonisti. Quindi condivideremo. Ecco, i nostri awards sono certamente delle serate, dei momenti di condivisione. Il titolo ci porta proprio a ragionare su una delle sfide che si discutono più frequentemente, quelle della sostenibilità. Si parla di finanza green, innovazione. Bene, le sfide che non solo noi stessi ci poniamo, ma che anche dall'Europa ci arrivano e ci vengono richieste. Ci chiediamo sempre se in qualche modo siamo pronti ad affrontarle. Spesso si affrontano questi temi un po' in modo sbagliato e quindi ci sono troppe polemiche, non si entra nel dettaglio ed è per questo che abbiamo isolato una domanda, visto che siete in cinque questa sera, che però crediamo racchiuda davvero tante riflessioni. Quindi poi ciascuno di voi saprà mettere, come dire, su questo palco, sul tavolo, le riflessioni che ritenete opportune proprio per parlare di questo tema in modo costruttivo. Ci chiediamo e vi chiediamo che cosa significhi per voi crescita sostenibile, proprio come recita il titolo del nostro CEO Summit, e quali sono le principali sfide. E vi chiedo anche appunto, se ritenete che l'argomento, questo l'aggiungo io ma l'ho detto nella premessa, se si stia affrontando nel giusto modo questo tema, che davvero poi, come dire, determinerà il futuro delle imprese, qualsiasi esse siano e di qualsiasi settore di riferimento abbiano a che fare. Insomma, partirei con l'avvocato Serafini, prego. Buonasera a tutti innanzitutto. Ma di sostenibilità se ne parla tanto, forse troppo, e poche volte si sa realmente il contenuto di qual è il problema del mondo della sostenibilità. Il dire, cosa vuol dire la sostenibilità? Vuol dire avere una previsione di continuità nel tempo del regime dell'impresa. Quindi stiamo parlando che va introdotto nell'ambito dell'analisi della propria azienda il capire se quell'azienda ha, sì, quegli elementi classici che stiamo dicendo la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale, la governance, ma in realtà altro non è che una vecchissima ricetta. Sapere che se quell'azienda ha la struttura per poter continuare ad operare nel tempo. Quindi quella vecchia ricetta che le nostre aziende, le nostre imprese di famiglia in qualche modo avevano, oggi richiedono l'attenzione, cioè il capire ad esempio se quell'azienda rispetto ai fattori climatici, rispetto ai fattori di carattere politico planetario che si stanno creando, ha quegli attenzioni generali che possono in qualche modo favorirne la continuità. Allora pensate che cosa voglia dire questo sull'impatto della trasformazione. Trasformazione, pensate a cosa sta succedendo nel mondo della filiera dell'automotive, dove le incertezze sul motore elettrico che ancora sentiamo nel frattempo hanno degli impatti da sul punto di vista industriale estremamente notevoli. Tutto questo tema, al di là delle direttive comunitarie, perché l'Europa si sta muovendo in modo asintomatico rispetto al resto del mondo, con normative sempre più stringenti per le imprese, in realtà è stata fortemente e sarà fortemente attuata per due ragioni di fondo. La normativa europea da un lato, che diventa stringente con le normative nazionali che andranno a recepirla, e qui attenzione, il punto fondamentale di tutto questo e sono le ultime direttive che riguardano l'applicazione del mondo della sostenibilità al mondo delle filiere. Questo vuol dire che le grandi aziende che hanno già oggi affrontato il tema della sostenibilità avranno sempre più per normative europee e nazionali, in Germania già da ottobre esiste una normativa specifica nel senso, l'obbligo di vincolare tutta la filiera ai requisiti della sostenibilità. Questo è un problema enorme per il nostro tessuto produttivo fatto di piccole aziende spesso di subfornitura. Quindi, e qui c'è un forte ritardo. L'altro mondo è il mondo della finanza. Oggi ormai i due terzi di quella che è la finanza nel mondo, sia finanza di debito estrabancaria o finanza di capitali, a far raccolta nel mondo della finanza sostenibile. Quindi è evidente che l'azienda che deve continuare a lavorare o accede a questi criteri o da un lato, perché è dentro una catena in cui la casa madre gliela impone, oppure deve accedere al mercato dei capitali e del credito, dovrà necessariamente adeguarsi. Detto questo, c'è la spavento cosa dobbiamo fare. Quello che noi vediamo, noi abbiamo un team dedicato nel nostro studio al mondo ISG e ce ne occupiamo da tempo, stiamo vedendo che in realtà non siamo così indietro, anzi le aziende italiane sono molto avanti, non sanno di esserlo tante volte. Quindi quando facciamo gli assessment, quando andiamo a vedere che cosa c'è l'azienda, il nostro imprenditore, nel 70-80% dei casi, quelle cose che la legge richiede le ha già fatte, non le sa raccontare e questo è un altro problema del nostro mondo dell'impresa. Però, così passo la parola a Giuseppe Corcione, un bell'assist questo, perché io inizialmente parlavo anche di questione culturale, di mentalità. Stando a quello che dice l'avvocato Serafini, mi fa piacere sentire questo, vuol dire che, però gliela pongo come domanda e poi lascio le sue riflessioni come ho fatto con l'avvocato, che a livello culturale siamo pronti? È una bella notizia perché se ci vengono spontanee le cose da fare e non abbiamo solo bisogno di linee guida, che peraltro anche in questi giorni sono state pubblicate e quindi ancora di più, no? C'è l'idea di cosa le imprese devono fare, ebbè però se ci viene automatico farle vuol dire che siamo, come si suol dire, sul pezzo, siamo già improntati a farle. Cosa ne pensa? Partiamo da qui. Guardi, prima di tutto buonasera a tutti. Io credo che da un punto di vista puramente sociale e culturale non siamo assolutamente pronti. Non siamo pronti semplicemente perché non c'è la conoscenza di quello di cui parliamo. Cioè nel settore della sostenibilità e della green economy in generale si parla tanto, ci sono tantissime frasi, tantissimi numeri che vengono pubblicati, ma di persone realmente che hanno toccato con mano di cosa stiamo parlando ce ne sono veramente poche. E la disinformazione su questi argomenti è molto molto alta. Si cerca di fare tanta pubblicità da una parte, ma se non capiamo che la sostenibilità ha una parola correlata che è la visione. Se non c'è visione energetica, sociale, politica, culturale all'interno di uno Stato è difficilissimo che un'azienda possa essere competitiva a livello mondiale. Le posso fare un esempio molto pratico che riguarda noi. Noi siamo un'azienda nata nel 2020 che ha investito oltre 100 milioni. Quindi fa 100 milioni di investimento totalmente legati, privati, in ambito fondamentalmente di mobilità sostenibile. Siamo uno dei più grandi centri a livello europeo che fa questo, ma viviamo in uno Stato in cui proponiamo un referendum contro la transizione energetica. Siamo in uno Stato in cui abbiamo un costo energetico più alto tra i Paesi europei che non genera visione di nessun genere per una transizione che lo vuole fare. Quindi vogliamo una transizione sostenibile verso un mondo energetico differente, ma allo stesso tempo non c'è assolutamente nessuna politica di attuazione che questo lo consente. Questo significa che un'azienda che si trova a competere a livello mondiale, in cui altri Stati fanno scelte strategiche da decenni in questa direzione, si trovano completamente fuori mercato. Quindi noi imprenditori che abbiamo la voglia di continuare a farlo nel territorio, abbiamo anche la necessità di confrontarci con persone che hanno tre elementi. La competenza prima di tutto, hanno la capacità e la conoscenza di quello che facciamo e terzo che abbiano la capacità di fare anche scelte impopolari. Le scelte purtroppo sulle transizioni energetiche non possono essere scelte di natura popolare, sono scelte che toccano l'evoluzione complessiva di uno Stato e questo va fatto in una maniera estremamente chiara, senza ritornare o cambiare fronti ogni dieci giorni con delle idee che non sono assolutamente chiare sul tavolo. Questo sicuramente ci deve essere maggiore chiarezza. Beh, abbiamo visto già, sentito dai primi due interventi, delle visioni leggermente diverse. A questo punto do la parola a Sonia De Canale per capire, insomma, lei dove si posiziona, mettiamola così, poi ovviamente non è una gara chi pensa una cosa e l'altra, però poi per tirare anche un po' le somme rispetto a questo discorso ed è bello che ci siano tanti sentiment diversi e poi naturalmente le sfide principali secondo lei che bisogna affrontare. Esatto, io diciamo che condivido con lei assolutamente il discorso, il fatto che bisogna molto puntare in Italia sull'iniziativa privata. Noi siamo imprenditori, stiamo cercando di organizzarci. Organizzarci perché? Per far sopravvivere le nostre strutture e soprattutto per dargli un futuro, specie chi ha dipendenti, chi ha tante famiglie da portare avanti e da mantenere ogni giorno. Sostenibilità. Allora, io mi rifaccio un pochettino alla dichiarazione delle Nazioni Unite, i tre pilastri fondamentali, la sostenibilità energetica, quella economica e quella sociale. Da un punto di vista della sostenibilità economica sicuramente noi stiamo cercando di creare un equilibrio tra quello che è la crescita economica dell'azienda e nello stesso tempo anche l'efficienza nella gestione delle risorse. Quindi cercare di dare un futuro, quindi gestire le risorse anche in maniera di dare una continuità al nostro lavoro, al nostro valore. E lo stiamo facendo in autonomia, cercando di innanzitutto dare molto spazio alla tecnologia e quindi all'efficientamento da un punto di vista anche dei processi in ciò che noi facciamo. E poi anche diversificando anche i settori di business, perché anche quello secondo me è fondamentale. L'evoluzione del mercato è talmente veloce che bisogna un attimino guardarsi intorno. E noi veniamo poi tra l'altro da una realtà, da un punto di vista sociale, un po' particolare, perché sebbene lavoriamo in tutta Italia, però la nostra azienda nasce in Salento. Quindi noi veniamo da una terra dove, sì, bellissimo, in questo periodo adesso è l'unico, però sicuramente veniamo da una terra in cui tanto ancora c'è da fare da questo punto di vista. E quello che noi cerchiamo, e qui mi allaccio anche al discorso della sostenibilità sociale, è quello di evitare, questo è stato un mio impegno che ho assunto proprio personalmente, innanzitutto cercare di dare l'opportunità anche alle donne. Ricordiamo che fino a 55 anni fa ancora c'era il fenomeno delle donne tarantate, cioè ancora c'erano queste manifestazioni che non è la notte della Taranta, quella dove oggi si balla la pizzica, ma erano proprio delle realtà vere che vivevano quotidianamente le donne del sud. Quindi praticamente l'altro ieri. Stavo cercando, io personalmente con la mia azienda, che è l'unica nel mio settore ad essere fondata e guidata da una donna, sto cercando di valorizzare le donne. Noi pochi giorni fa abbiamo anche ottenuto la certificazione della parità di genere. E anche questa è una sfida non indifferente accanto a quella della sostenibilità. Una sfida mia personale, voluta, tanto ambita, proprio perché nella mia azienda tanto spazio viene dato alle donne. Le donne hanno la possibilità di esprimersi e soprattutto anche ricoprono dei ruoli importanti, che ripeto, in una società del sud non è così semplice. No, no, no. E quindi sento anche l'impegno, essendo una società che opera nel Salento, io sento anche l'impegno sociale nei confronti della mia terra. Quindi quello di, il mio sogno sarebbe quello, non lo posso fare ovviamente perché siamo comunque una piccola e media impresa, ma il mio sogno sarebbe quello di evitare che i giovani andassero al nord per trovare lavoro. Quindi creare delle possibilità, delle prospettive anche per chi purtroppo deve abbandonare la propria terra per andare a lavorare altrove. E io investo tanto, noi investiamo tanto sulla formazione, sulla, diciamo, l'attenzione nel creare professionalità di rilievo, che possono avere la propria soddisfazione non soltanto economica, ma anche professionale e sociale all'interno delle aziende in cui operano. Quindi questo è quello che stiamo cercando di fare, diciamo, in quest'ultimo tempo, che ormai è diventato il loop dell'attività che noi svolgiamo. Certo. Soprattutto in un momento, lo diceva poco fa, in cui tutto corre veloce, no? Perché poi l'innovazione, tutto ci porta a ragionare molto più velocemente rispetto magari a quanto è successo. La tecnologia è funzionale, sicuramente anche gli investimenti tecnologici sono funzionali per efficientare meglio il sistema e quindi ridurre i costi e investire ancora di più nella formazione, investire ancora di più nelle risorse umane. Assolutamente. Questa è la priorità della nostra azienda. Anche qui molti, molti spunti, insomma, passo la parola a Roberto Montarulli. E appunto, sempre a partire dalla domanda delle sfide, adesso lei parla per quarto, quindi insomma ha sentito chi l'ha preceduta, cosa ha pensato di voler mettere su questo palco questa sera. Quale ingrediente si sente di aggiungere? Buonasera. Beh, certo, dopo pareri così autorevoli, effettivamente non si può che condividere e provare a proporre una riflessione partendo, direi, dal significato etimologico della parola sostenibilità, no? Sostenere, supportare, proteggere, ma soprattutto nutrire. Se voi pensate alla locuzione che ne fanno gli inglesi, per esempio la correlazione sustainable meal, visto che siamo tutti attorno a dei tavoli, è qualche cosa che può dare delle indicazioni importanti. Io faccio parte di una boutique di finanza e con i nostri partner cerchiamo di offrire ovviamente servizi che sempre più spingono verso i fattori, ovviamente ISG, ma che partono dal presupposto, come è stato detto compiutamente, di creare anche consapevolezza. Quindi il tema sicuramente del plus valore da garantire, ma soprattutto l'apertura verso quello che troppo spesso forse viene solo raccontato e non messo a terra, come si dice oggi, rispetto ad una definizione vecchia, ormai quasi di 40 anni, che recita che la sostenibilità è qualcosa che si prefigge di soddisfare dei bisogni attuali senza compromettere i bisogni delle generazioni future. La riflessione è, tornando al tema nutrire, siamo proprio sicuri che stiamo facendo il massimo in questo senso. Allora, nel caso della tecnologia, un ingegnere come sono io, che ha il privilegio di essere consigliere delegato di una boutique di finanza, che ruolo può avere? Ovviamente quello di orientare le scelte della clientela, garantendo ovviamente il plus valore atteso, ma soprattutto, come dicevo, di creare quella consapevolezza verso quegli indirizzi che servono per mantenere la promessa. Quindi è stato detto siamo pronti, non siamo pronti, c'è la cultura, sono bei quesiti. Probabilmente non c'è una risposta definitiva. Ci sono delle riflessioni aperte, sicuramente bisogna spingere molto sulla tecnologia, la finanza ha un compito, a nostro parere, estremamente importante di indirizzo, di trasparenza e probabilmente questo apre anche lo scenario di migliori speranze per le generazioni future. Parlando di tecnologia, dato che è l'ambito che mi compete di più in qualità di ingegnere, sono stati citati alcuni aspetti, ce ne sono molteplici ulteriori che aprono scenari assolutamente ottimistici in questo senso, ma sono completamente d'accordo con quello che è stato detto, che bisogna creare un tessuto di consapevolezza. Finanza, sostenibile e sostenibilità, un tema che lancio come spunto di riflessione, il tema Carbon Credits per esempio, è un felice connubio che fa la sintesi di quello che ho tentato di spiegare e che lascio come spunto di riflessione, partendo proprio dal significato etimologico del termine sostenibilità come nutrimento. Assolutamente, effettivamente sono tutti degli esempi, poi lei ha parlato del mondo della finanza, a volte temi come quello della sostenibilità vengono un po' messi da parte perché ci sono sempre emergenze legate a altre questioni che poi fanno capo magari proprio alla finanza, non solo, ma adesso sto un po' riassumendo e quindi è importante invece far andare parallelamente, cioè non bisogna parlarne solo quando non ci sono altre emergenze, tanto le emergenze ci sono sempre, poi negli ultimi anni purtroppo ci siamo abituati ad averne una dietro l'altra e quindi forse, forse la consapevolezza, così poi le do la parola proprio su questa parola che è un'altra parola fondamentale in questo discorso, adesso forse possiamo dire di essere un po' più consapevoli del fatto che non potendo governare tutto dobbiamo cercare di anticipare, no? Per poi arrivare pronti appunto alle sfide che volenti o nolenti dobbiamo affrontare, nolenti nel senso anche quando sono brutte in questo senso. Maurizio Faschè appunto, consapevolezza, dovesse dare un significato a questa parola nel contesto in cui stiamo parlando, quale sarebbe e se ne abbiamo? Questa è un po' la domanda che ho rivolto anche agli altri ospiti. Intanto buonasera a tutti e grazie anche insomma per le opinioni autorevoli che ho avuto il piacere di ascoltare e dopo le quali insomma mi trovo a dover intervenire. La consapevolezza è quella che cerchiamo di portare all'interno delle aziende tutti i giorni e le varie opinioni mi sembra che sono quelle che sentiamo spesso durante i tavoli tematici, nei tavoli normativi, nella consulenza che svolgiamo tutti i giorni presso i nostri clienti ed è proprio questo che ci sono tanti aspetti. Sicuramente le aziende italiane hanno il know-how, hanno la conoscenza settoriale verticale per affrontare questa sfida che nella comunità europea viene chiamata transizione 5.0, il famoso no white paper di cui si parla e che è stato tradotto ad essere oggetto di approvazione adesso del decreto transizione 5.0. Però la difficoltà forse, visto anche la costituzione di cui sono, di com'è il tessuto imprenditoriale, piccole o meno imprese, lo diciamo sempre, diciamo difficoltà spesso di aggregazione, è proprio quello di avere un metodo, no? Quindi quello che cerchiamo di portare nell'azienda non sei cliente, è proprio un metodo, cerchiamo di portare un metodo con cui approcciare queste sfide perché la consapevolezza è proprio questa la sfida, cioè avere consapevolezza di quello che, come diceva soprattutto il collega qui accanto, è proprio quella di dover capire che si sta affrontando una transizione non solo sostenibile, adesso la keyword è sempre sostenibilità, no? Non c'è sostenibilità senza digitalizzazione, non c'è digitalizzazione senza, in questo caso, uno sviluppo delle aziende europee, perché la sfida è proprio questa, di poter implementare un modello diverso di business senza andare, no? Quello che diceva il collega, senza dover andare a impattare sulle generazioni future. Se in mondo globale si resta sulla tradizionale focus, quello economico, restiamo indietro. Se siamo noi, diciamo, a voler proporre un modello diverso di business, un modello diverso di crescita, no? La famosa business continuity che è oggetto all'interno della governance del modello ISG, forse diventiamo noi protagonisti. Quindi la sfida è proprio questa, è quella di consapevolezza ed è quello che cerchiamo di portare, diciamo, con un metodo all'interno diciamo, delle nostre attività. Ma infatti il discorso è anche quest'altro, cioè siamo tutti protagonisti, perché si rischia a volte anche di credere che siano solo le nuove generazioni giovani che vogliono questi, no? Il rispetto dell'ambiente e però anche gli adulti a volte dicendo la classica frase, verissima, attenzione, dobbiamo fare in modo di lavorare per lasciare un bel mondo alle future generazioni, verissimo, però insomma dobbiamo lavorare affinché anche questo mondo del presente sia sempre più sostenibile e alla portata di tutti in senso buono. Quindi ecco, secondo me è emerso anche questo aspetto, vedete ragionando quanti punti possono venire sotto esame che magari non vengono subito in mente, il fatto che non dividiamo vecchia generazione, tra virgolette, nuova generazione, futura generazione, è un argomento di tutti, il mondo è di tutti, ci stiamo vivendo anche noi, quindi non dobbiamo solo pensare alle future generazioni ma egoisticamente anche a quello che possiamo fare noi.